Musica Salve amici del Centro Medio Italiano, ultimo giorno del mese con residui e precipitazioni seguite da un temporaneo miglioramento. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 31 ottobre. Nuvolosità irregolare al mattino con piogge ed acquazzoni sparsi sulla Liguria, Lombardia e Triveneto, ma anche sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Al pomeriggio generale miglioramento con residui fenomeni su Friuli, Venezia Giulia, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. In serata e nottata invece condizioni di tempo asciutto, ma con molte nuvole in transito su tutti i settori. Temperature minime in calo al centro-nord e in rialzo al sud, massime in generale diminuzione ovunque. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Musica 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 Musica